E' il medico Fabrizio Pulvirenti il nuovo direttore del reparto di malattie infettive dell'ospedale Vittorio Emanuele di Gela. Nato a Catania, classe 1964, Pulvirenti ha preso servizio lo scorso 1 settembre. Laureatosi in medicina e specializzatosi in malattie infettive e gastroenterologia all'Università di Catania vanta un curriculum di tutto il rispetto. Per quasi 16 anni ha lavorato nel reparto di malattie infettive dell'ospedale Umberto I di Enna e dal 2021 ha coordinato l'unità operativa complessa di malattie infettive tropicali dell'ASP di Agrigento. Nel suo percorso professionale c'è anche un'esperienza come volontario di emergency. Per l'organizzazione non governativa fondata da Gino Strada ha lavorato in Kurdistan e poi nell'ottobre 2014 è partito per la Sierra Leone, uno dei paesi più colpiti dall'epidemia di ebola. Malattia che ha contratto a sua volta, tanto da essere stato il primo italiano contagiato proprio dal virus ebola. Il direttore generale dell'ASP di Caltanissetta Alessandro Caltagirone ha dato il benvenuto al dottor Pulvirenti, elogiandone il percorso professionale e le alte competenze accumulate nel corso della sua esperienza, dicendosi certo del fatto che anche a Gela saprà far valere le sue abilità nell'interesse dei pazienti.